di circa 110 milioni di euro per i prossimi dieci anni. Questi risparmi, come previsto dal comma 3 del citato articolo 45, sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte per il pagamento del cosiddetto debito della pubblica amministrazione. L'operazione di riacquisto ha consentito, secondo il Ministero dell'Economia, la riduzione del debito della pubblica amministrazione di circa 400 milioni di euro. Grazie. Grazie. La deputata Ruocco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. No, in sostanza se il nocciolo fondamentale era che la valutazione fosse sbagliata di 300 basis point per l'illiquidità, questo sicuramente 250 basis point di differenza non può giustificare, perché le regioni questo è la perdita che è stata configurata, secondo gli articoli che abbiamo citato. Comunque, se il Ministero del Tesoro ha il supporto della documentazione, sicuramente non mancherà di dimostrare tutto quanto è stato detto durante questa interpellanza. Noi andremo avanti e sicuramente chiederemo ulteriori documentazioni a supporto, perché la risposta attuale non la riteniamo sufficiente. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.199 dei deputati Gallinella ed altri, concernente orientamenti del Governo in merito all'avvio di una procedura di infrazione in sede europea in materia di etichettatura e informazione sull'origine dei prodotti alimentari. Chiedo al deputato Gallinella se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Ringrazio il Vice Ministro che è sempre attento e presente ai temi agricoli. Immagino che il Ministro Martina stia già cambiando le etichette del nome al Ministero, quindi ringrazio per la presenza il Vice Ministro. Sicuramente il Vice Ministro sa benissimo che l'etichettatura è una materia che questo Parlamento e la Commissione di Agricoltura, immagino anche il Vice Ministro stesso, abbia a cuore, perché il nome Made in Italy è uno dei due nomi più conosciuti in Europa e nel mondo e questo Parlamento ha approvato una legge per definire che si può applicare la dicitura Made in Italy a quei prodotti coltivati, allevati e trasformati in Italia. Questa legge è stata approvata nel Parlamento nel 2012 e però adesso è sottoposta a una procedura, vi chiamo, di critica, di infrazione, è un caso di pilot da parte della Commissione europea perché è un caso di valore, vi chiamo, vi chiamo, vi chiamo, vi chiamo,